C'è una giornata mondiale per tutto, anche per il gabinetto. Oggi è il World Toilet Day e in India, in occasione di questa ricorrenza, Bindeshwar Patak, fondatore dell'associazione Sulab International, che ha lanciato una campagna sanitaria a basso costo in tutto il paese, ha fatto preparare una gigantesca torta da 250 kg a forma di toilette, ovviamente in stile indiano. Lo scopo è quello di attirare l'attenzione sull'importanza dei servizi igienico-sanitari per tutti, al fine di ridurre la diffusione di malattie e anche il tasso di mortalità nelle fasce di popolazione più povera. Secondo l'UNICEF, più di 620 milioni di persone in India non hanno una toilette al coperto.